La prova del 9 si avrà questo lunedì, quando passate le feste, si avrà il polso della situazione alla rediviva dogana tra Gran Bretagna e Unione Europea. Già questo weekend però qualcosa è andato storto, tanti britannici residenti in Spagna non sono potuti tornare a casa. Siamo arrivati qui all'aeroporto e ci hanno detto che non potevamo volare perché la carta di residenza non è valida, ma noi stiamo andando a casa, casa nostra è in Spagna e mio marito ha bisogno urgente di cure. I Baria e British Airways nel Regno Unito hanno rifiutato l'imbarco a tanti britannici residenti come Christian a Madrid o in altre città spagnole. All'abbasciata britannica in Spagna la sorpresa è stata notevole. Hanno detto di non capire, la carta verde spagnola doveva bastare per viaggiare. Tutto sarebbe dovuto continuare come era fino al 31 dicembre, insomma, fino alla fine del periodo di transizione post-Brexit. Invece fioriscono i qui pro quo.